buonasera sempre più tardi ma sono giustificata avevamo da smistare ecco qui abbiamo fatto una bella macchia di caffè ma sembrerà fatta apposta io intanto mi giro il caffè mentre vi aspetto magari asciugo la tazzina sotto che potrebbe essere una bella idea per occupare il tempo buonasera eccoci eccovi buonasera sono arrivati bundle di tommaso adesso giustiamo un po queste luci perché mi stanno abbronzando buonasera eccovi qua cerchiamo di non sporcare questa meraviglia buonasera eccoci bottalico non farò gli swatch stasera ma li ho fatti tutti in pausa pranzo buonasera allora sì farei due card perché in realtà volevo fare un layout ma poi non sono riuscita a organizzare quello che volevo allora facciamo due card e imbossiamo ecco cosa non ho preso l'embosser che per imbossare direi che ci serve intanto che arrivate lo prendo cerchiamo di non dare fuoco a niente proviamo ad impegnarci controlliamo che sia quello che funziona yes proviamo gli inchiostri di florilege di cui in realtà mi piacerebbe prima o poi fare uno swatches magari quando trovo anche tutti gli altri che sono che in questo momento sono esauriti e adesso vediamo facciamo due pannellini di card qualcuno mi ha chiesto di far vedere la tecnica dell'embossing e allora vediamo in realtà mi sono presa sì la polverina trasparente perfetto buonasera eccovi qua allora una paginetta in cui ho lasciato un rifuso ma va bene l'ho corretta l'ho rimandata tutti quelli che l'hanno comprata prima del rifuso sul serio in pausa pranzo miscredente bene sono contenta Ilaria buonasera allora oggi grandi momenti di smistamento perché è arrivata questa meraviglia qui ah questo sia il binder dei miei sogni no no ma figurati l'ho fatto tutto in pausa pranzo eh cosa ne dite con tutti gli swatchini dei prodotti di Tommy i perla non ci piacciono per niente sono stata braverrima come direbbe la mia amica Miranda no gli sparkly e poi qua c'è dell'altro spazio e qui ci sono inizio magari a dirvelo tra un po' cominceremo a cominceremo a conoscere anche questi chi conosce Tommaso da tanto tempo sa che lui arriva dal mondo del country questi sono degli acrilici adesso Tommaso disse che dico qualche cretinata fermatevi adesso vi dico anche la differenza tra questi due questi sono i colori acrilici di Tommaso che lui usava prevalentemente per il country painting ma in realtà ne parlavamo l'altro giorno possono avere mille declinazioni che possono servire anche a noi quindi ho qui lo swatchino questo non l'ho fatto io me l'ha mandato così adesso va bene la pausa pranzo impegnata però Bloom Street non ancora ho degli arrivi di ID swap domani però Bloom Street ancora no e ci va un pochino più di tempo quando vanno in riassortimento a collezioni di quel tipo lì portate pazienza vi dicevo colori country colori acrilici che lui usava per il mondo del country in realtà non sarebbe male anche a me il country painting piaceva tantissimo non so chi di voi sia passato da questo mondo io ci ho provato è una cosa che richiede magari un pochino più di tempo io non sono una personcina particolarmente paziente e in realtà da quando ho così poco tempo l'ho un pochino abbandonata ma questi acrilici qui potrebbero essere una buona scusa uno, due potrebbero essere declinabili per mille dei nostri lavori per esempio sono bellissimi quanti colori sono bottali? 4 per 3 sono 12 36 e anche io un tempo ho provato a fare country paint per la mia capacità di stendere il colore in maniera uniforme è veramente limitata diciamo che sono più brava a fare altre cose per dire però questi colori sono stupendi e in realtà possono essere declinati per tante altre cose non necessariamente solo per il country ne parlavamo l'altro giorno non sarebbe male se vi va magari organizziamo qualcosa non so bottalico sei ancora lì? perché se sei ancora lì non lo so cosa ci prometti? 48 quindi non so contare però qui ce ne sono solo 36 perché sono 16 va bene sì 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 anche per la gelipressa assolutamente sì qui mi servirà il terzo espositore ma chi lo dice a madre? bottalico sì sì sono io che non so contare ma perché dovevo dare conferma di quelle che sono anzi 4 per 4 certo e scusate vabbè per vedere se eravate attenti non lo so cosa possiamo organizzare? bottalico ce la fai una demo? o qualcosa? boh vediamo ed è colpa di Tommaso Bottalico io compravo questa rivista di country painting anni 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 e eoni fa e c'entrava anche lui scrivilo nel tuo bulletto bravo una demo sarebbe anche carino fare un corso adesso si può fare il corso live non so cosa ne pensiamo? non so contare ma voi non mi credete quando dico che non so contare ma è vero bevo il mio caffè e arrivo se bottalico ci insegna qualcosa di country painting io mi impegno a usarli a usare questi colori declinati nello scrap in maniera un pochino diversa un po' più spatasciosa perché le cose precise così non è che proprio facciano al caso mio no le schede per il colore non ci sono allora questo qui è il bundle questo è quello che è il bundle quindi in realtà non ci sono le schede stampate ma ci sono il bundle contiene contiene le schede rubricate c'è il timbro che scusate l'ho lasciato un secondo di là aspettate che me lo sono persa un secondo lo vado a prendere e non lo trovo mamma sei qui? sì dove mi hai messo i timbro nuovi di Tommaso? che ci ho messo anche il mio mi sa? dietro di qui i timbro nuovi di Tommaso qua? guardate pazienza mi sono sfuggiti eccoli qua questi sono i tempi per fare i vari swatches gli swatches si possono fare per 2512 cose per tutti i link che abbiamo possiamo farli per smettire a bottalico possiamo farli per gli ink pad possiamo farli per gli ink spray possiamo farli per le paste colorate qui ci sono una serie di finestrelle timbrabili che ci consentono di avere poi questo risultato qua questi sono i tondini guardate tutta la righina cioè si vede che è vergine e questi qua invece sono per aspettate che cosa abbiamo usato qua io adesso ho fatto tutti quelli tondi questi sono per la sua malattia mentale ma poi ce lo spiegherà guardate nome, marca io potrò usarli in altro modo sicuramente però ho già fatto tutti i miei swatches i timbri sono ibridi in che senso? non ho capito non ho capito spero di leggere la se no scrivimi un messaggio questo è lo stencil che è venduto separatamente nel bundle c'è il video esatto c'è compreso un video sull'organizzazione giusto bottalico e queste sono le schede rubricate quando ho fatto il bundle quando ho fatto il binder scusatemi con la collezione ginga di my mind's eye in realtà non avevo le schede rubricate perché mi ero fatta mandare un campione d'esempio perché quando dico che sono impaziente intendo anche questo le paste c'è anche una maschera no in realtà le paste le stendi in realtà le stendi sul foglio normale e poi punci questo è il punch scusate sto disfando il bundle questo è il punch da 0,75 anche questi in realtà non sono stati fatti sul tondino sono stati fatti su una superficie un pochino più grande e poi sono stati punciati così il cerchio è perfetto e non dobbiamo stare a impazzire a stendere il colore in una porzione così piccola a stenderlo bene in una porzione così piccola si stende su una porzione più grande quando è tutto asciutto si puncia allora ho riaggiornato la quantità dei bundle disponibili ne ho ancora qualcuno che ho preso in più ma Tommaso in realtà c'è il tondino è da 0,75 0,75 ho qualche bundle in più già in casa gli stencil in realtà ne ho qualcuno in meno rispetto alle prenotazioni ma venerdì arrivano gli ink per esempio invece vanno bene sulla carta adesiva si possono fare sui tondini adesivi delle etichette che abbiamo che abbiamo preso di recente che adesso poi vado a farvi vedere o se no li punciate però queste lui lui mi aveva insegnato tempo fa perché ricordo che una volta abbiamo fatto una cartella colore qua in negozio e io ero stata adibita a spruzzare questi ink il punch da mezzo pollice il punch sì questo qui però è da 0,75 non è da mezzo pollice ah mi stanno arrivando dei suggerimenti dalle regie allora aspettate perché in ogni bundle ci sono anche le etichette aspettate perché su questa cosa qua è meglio che io faccia così lo apriamo perché adesso mi state battalico non ti scandalizzare lo apro non succede niente qualcuno lo riceverà aperto dalla cle in un altro sacchetto perché questo lo disfiamo completamente e vi faccio vedere che cosa c'è da 0,75 e da 3 quarti di pollice scusatemi allora dentro c'è il timbrino il link per il video ci sono le etichette vi farei osservare la cura maniacale con cui sono stati confezionati c'è un foglio di ciascuna etichetta due fogli di ciascuna etichetta che sono le etichette che trovate che trovate nel nel sito ci sono le stampe così ve lo faccio vedere così magari lo imparo anch'io perché in questo periodo guardate ci sono già i fori questi e poi ci sono i divisori allora adesso lo rinfiliamo qua dentro senza fare danni Clelia l'unica cosa che non è compresa rispetto a quello che avete visto nel mio è lo stencil che è venduto a parte il set di timbri singolo se qualcuno lo vuole lo può lo può ordinare dunque abbiamo anche qualche timbro in più ma in realtà credo che Tommaso ne abbia qualcuno in più quindi se dovessi anche finire quelli che ho preso in più poi farò cadere tranquillamente se dovessimo averne bisogno di qualcuno in più credo che ci siano le cani e gatti allora le lame penso per fine settimana la carta dei cani e gatti ci va ancora un po' in realtà Tommaso stasera fa un live per fare delle carte alternative con questo set di timbri non so se avete visto non so se siete iscritti al suo canale su telegram se non ci siete iscrivetevi se non siete iscritti neanche al mio iscrivetevi anche al mio per solidarietà se vi iscrivete anche al suo uno per 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 condicio il binder è un contenitore il binding in inglese è la rilegatura quindi questo è un rilegatore che vuol dire che è un qualcosa dove tu puoi mettere dentro delle cose e lui le tiene insieme con il meccanismo ad anelli in questo caso io li uso tantissimo per fare degli album si possono usare per organizzare io li uso chissà se ce l'ho qui quello che avevo fatto con la collezione gingham si allora quando Tommaso ha fatto uscire questi ci ha dato la possibilità di ordinare un paio di samples senza le schede dentro io ci avevo fatto questo no lo stencil non c'è nel bundle lo puoi comprare però a parte nel bundle ci sono le cose che vi ho fatto vedere prima qui avevo usato una collezione di carte che è quella della gingham di my mind's eye e avevo fatto i fori semplicemente e può contenere in realtà penso qui una quarantina di foto si possono usare per organizzare cosa in cui io non sono particolarmente brava quindi difficilmente mi vedrete usarlo per organizzare però mi vedrete usarlo per fare un sacco di album è meraviglioso è fortissimo come cartone i divisori craft che ci sono dentro sono fantastici se non li usate per organizzare basta tagliare questo pezzettino qui diventano delle paginette fantastiche adesso Tommaso lascerai live il canale telegram di Tommaso credo che se cerchiate il canale di Tommaso o Tommaso bottalico lo troverete subito i fogli singoli di Sirio arrivano allora non ho visto se sono già in riassortimento ma Moda Scrap sta facendo uscire una nuova collezione di carte che saranno carte singole un po' come la collezione di Pua io userò per il make up tagliare sì quindi penso che insieme a quella collezione di potremmo riavere anche il Sirio arriverà tutto inizio settimana comunque vi dicevo bellissimo cartone questo non proverei a tagliarlo per farlo di misure diverse ma bottalico magari ci potresti sorprendere con delle misure diverse se siete particolarmente inclini all'organizzazione è perfetto io non particolarmente quindi lo userò per fare degli album e Tommaso su questo si è rassegnato perché ho fatto questi e non mi ripigli mai più mi sta smantellando vabbè io sono molto contenta che abbia fatto questi contenitori perché il mio fornitore non me li faceva più e quindi in realtà mi mancava un binder bello la qualità è veramente ottima è tutto made in Italy quindi in realtà insomma merita trovate sul sito tra le novità sia il bundle quelli che sono rimasti ma Tommaso è vero che se dovessi aver bisogno di qualche bundle in più me lo riesci a fare mi sembrava di ricordare di sì però non vorrei dire cretinate adesso ci dirà adesso vi pubblica anche il suo canale allora qui c'è la paginetta di oggi che ho fatto al volo e si vede perché ci ho lasciato un refuso brava proprio per esempio la taglierina aspetta va bene però conterranno foto i miei bottali che io cosa organizzo secondo te cioè non è che vada neanche da nessuna parte una vita impegnata no c'è una vita impegnata in negozio così e adesso lo tagliamo a misura questo allora cerchiamo di venirne a capo lo porto a 4x6 pochi ma ci sono ok io credo di aver lasciato l'opzione ordinabile anche se la giocenza magazzino termina quindi in realtà potete ordinarli poi vedremo con Tommaso fino a che numero poterli lasciare ordinabili allora questa è la paginetta di oggi prima che mi freghi come ieri facciamo immediately i fori immediately proprio poi la foto che ho stampata sono finite le taglierine quelle di Vaessen se sono quelle Sara dimmelo che poi controllo perché in realtà credo che ce ne siano io quello mi sento di averlo completato credo di aver fatto il mio dovere qui si è staccato tutto l'anello ok facciamo i forellini in realtà dovrebbe esserci una paginetta qua allora adesso in settimana dovrebbero arrivare anche queste da 6 o in settimana o lunedì non lo so dipende un po' da quelle che sono le code di spedizione mi manca la paginetta del 19 dove l'ho messa che è quella di ieri avrebbe dovuto essere qui in giro questa sarà una di queste la usiamo come foto mi sono persa la paginetta di perché oggi è il 20 me lo confermate sì e perché non trovo la paginetta di ieri l'avrò messa male vabbè adesso poi la cerchiamo 18 ieri l'ho fatta la paginetta vero vabbè adesso poi la cerco con calma magari mi è rimasta dietro il layout no vabbè dopo la cerco allora questa la mettiamo un attimo qui e oggi in realtà volevo fare due pannellini di card perché volevo farvi vedere questi inchiostri perché qualcuno mi ha chiesto qualcuno mi ha chiesto anche della tecnica di embossing allora gli inchi della florilege ne abbiamo di due tipi l'acqua e il floricolor l'acqua è a base d'acqua ed è acquerellabile quindi va bene se volete timbrare è la prima perché l'ho messa al contrario l'ho messa al contrario avete ragione ma non me ne ero neanche accorta brava proprio così ok i primi sono a base d'acqua quindi se volete timbrare e poi acquerellare la timbrata che avete fatto non vanno bene dovete usare questi che sono permanenti i floricolor secondo me si sfumano entrambi bene come gli oxide anche se su questi per esempio non potremmo fare l'effetto gocciolina li proviamo entrambi in questo modo e vediamo che effetto che fanno io in realtà adesso mi sono presi i pennelli della Taylor ma potete usare tranquillamente un blending tool allora mi taglio un paio di pannelli di card si si è la prima scusate sono stordita in realtà adesso credo che ci sia anche quella blu credo che ci sia anche quella blu se volete di pistola allora mi faccio questi pannellini di card ne faccio 3 o 4 perché facciamo diverse prove un quarto di pollice più piccolo della misura solita quindi invece che 4 per 6 le faccio 3 e 3 quarti per 5 e 3 quarti madre non si fa fotografare adesso gli anelli che sto usando sono quelli da 32 no da 38 da 38 scusate questo è il bianco l'extra white di Tommaso che in realtà va benissimo per fare quello che adesso voglio fare con la sfumatura e eventualmente giocare un pochino anche con l'acqua guardate ne taglio ancora due che se dovessero servirci almeno sono lì proprio un 6 ho sbagliato misura ecco qua troppo cicciotta ok 5 e 3 quarti e 5 e 3 quarti allora io mi sono presa una polverina bianca e una trasparente da embossing di qualsiasi marca Ranger Nuvo la Judy Kings vanno bene sono ottime marche prendiamo un tampone da embossing che ovviamente però non è ben preparato quindi lo cerco subito quello della Nuvo il Versa e quello della Wow vanno bene tutti ho qui questo timbro della Florilege che si chiama Poesina Turel con cui con cui giocherò per farvi vedere un po' l'effetto dell'embossatura allora per essere più tranquilla visto che in realtà questo è un timbro in legno quindi dovrei smontarlo non lo smontiamo facciamo a naso sperando che vada bene ha una fine tipo non lo produce più chi lo sa bottalico come rispondiamo a questa questione io intanto inchiostro con questo ne faccio in realtà solo una parte di timbrata guardate di qua premo bene poi prendo un foglio di carta che non ho pensato di preparare ma recuperiamo questo e usiamo la polverina bianca la polverina bianca per iniziare questa qui adesso vi spiego anche perché è bianco in realtà si può imbossare con la polverina colorata si può timbrare poi imbossare con la polverina trasparente che faremo si può imbossare con la polverina colorata su un colore in realtà avevo fatto una demo un video di una demo tantissimo tempo fa magari dopo se lo trovo ve lo faccio vedere allora asciughiamo questa timbrata quindi la imbossiamo bianco su bianco si vedrà poco ecco Timolz sta annunciando il nuovo colore dei distress mannaggia ne abbiamo ancora diversi vabbè bottalico non credo che ti permetta di smettere di farli adesso così per dire eh lo so e cosa dobbiamo fare ci annuncia il nuovo colore dei distress ma io li ho già ordinati ne ho già ordinati una valanga così a scatola chiusa senza sapere eh la dura vita di chi deve rifornire di materiale craft allora se qualcuno sbircia anche di là mi dite che colore è che sono curiosa anch'io come una scimmia per dire ok perfetto allora adesso la risultanza è che noi abbiamo un bianco su bianco che voi dite è assolutamente inutile parrebbe ma noi possiamo fare questa cosa ho preso questo colore molto delicato che è il Sahara che è a base d'acqua se ne prendi 5 puoi stare tranquilla sì io userò sarà il mio binder quindi userò quello per tutti gli album che farò d'ora in poi quindi sapevatelo allora scarico un po' il mio pennello della Taylor prendo un po' di colore faccio una microprova qui perfetto è un colore molto delicato questo è il Sahara quindi è proprio un colore da sfondo e noi facciamo questo in questo modo l'embossatura prende vita ma tanto questa è una cosa è una delle prime cose che ho imparato a fare quando mi sono avvicinata a questo mondo e ha sempre per me l'effetto wow ma ditemi che colore è lo farà vedere ok facciamo qualcosa che sale un pochino fino lì non è neanche dispensa smetti bene no infatti sono assolutamente d'accordo Rachele ma non glielo permetteremo è semplice ok guardate praticamente noi facciamo uscire il disegno tanto più ovviamente intensamente andiamo a posizionare il colore tanto più si scurisce facciamo uscire il disegno dal colore col fatto che c'è il bianco che è stato imbossato in bianco rimane particolarmente in risalto ha particolarmente risalto dopodichè puliamo un pochino la polverina bianca con un pezzetto di carta e esce fuori questo che direi che è tanta roba io per ora vi devo dire la verità che non li ho mai lavati questi pennelli ne sto usando uno per famiglia di colore poi si lavano con acqua e sapone semplicemente non dovete secondo me farvi tanti altri problemi allora prendiamo una salvietta qui e proviamo a fare una chimbrata invece con quest'altro colore questo si chiama Brou de Noir è bellissimo ma la gamma di colori è molto bella tutta molto florilege e proviamo a fare semplicemente una timbrata sempre di questi fiori qua adesso lo pulisco un secondo con la salvietta tenete presente che ho scelto un timbro in legno perché volevo i fiori ma è un po' più complicato da gestire perché non lo posso mettere nella platform anche se appena mi arriva l'easy mount questo lo smonto e lo usiamo così dieci minuti dentro ok inchiostriamo il nostro bel timbro hanno in genere un'ottima definizione questi inchiostri no non viene via perché l'abbiamo scaldata talmente tanto è plastica che si è fusa e quindi rimane lì adesso premiamo bene sperando di aver fatto una timbrata bella è splendida è veramente splendida è un marrone rossiccio è bellissimo nel senso che uso per esempio questo per i viola tutti i viola uso per i gialli ne uso sempre uno per questo per esempio per il marrone adesso ne apro uno e proviamo a sfumarlo questi qui sono quelli abbiamo detto permanenti quindi in realtà questi qui non sono sfumabili come gli oxide ma secondo me se volessimo fare uno sfondo si prestano lo stesso mi piace guarda le cose vanno usate fanciulle se no eccolo qui chiaramente questo è molto scuro però se noi costruiamo uno sfondo così come facciamo con gli oxide o con i distras insomma e sfumiamo adesso aggiungiamo anche l'altro colore volevo fare una parte un po' più grande qui di colore perché vorrei poi timbrarci ed imbossare in bianco ok riprendiamo l'altro colore e li mescoliamo partiamo da qui in realtà per non sporcare dovrei fare questa cosa qua per non sporcare la card la coloro quasi tutta ma praticamente mi concentro adesso ho scelto due colori che sono molto distanti tra di loro ma qualsiasi marca no non tutti sono ben sfumabili quelli ad acqua tendenzialmente hanno un risultato migliore si sfumano meglio e poi ci permettono di fare una serie di effetti molto carini che adesso vi faccio vedere che con quelli permanenti non si possono avere ho scelto un colore chiarissimo mi ci vanno 82 passate ma abbiate fede allora noi adesso abbiamo questa massa qui allora prima di fare qualsiasi altra cosa prendo uno spruzzino per antica sì per anticare sì va bene qualsiasi colore ma se volete fare uno sfondo bisogna scegliere un pochino meglio il colore adesso ne facciamo scendere delle goccine ne facciamo scendere qualcuna anche qui aspettiamo un attimo prendiamo questo tool meravigliosamente fantastico speckled egg che non mi dice niente che colore è quindi vedete sulla parte ad acqua ma un pochino anche su quello permanente fa questo effetto di gocciolina che è meravigliosa guardate questo è l'effetto ah un azzurro quindi è una specie di sì un azzurro quasi velato chiarissimo bene ci serve l'ho già ordinato siamo a posto allora questo ci fa l'effetto gocciolina qui sopra adesso facciamo questo la salvietta asciughiamo perché non mi dito parecchio prendiamo sempre il nostro potremmo farlo anche con il loro timbro e quindi con un marrone e poi imbossare facciamolo così così vi faccio vedere usiamo un tampone colorato possiamo potremmo fare due cose guardate vi faccio vedere sullo stesso pannello se riesco a riaprire il tampone di colore ok allora inchiostriamo bene di qua facciamo con l'inchiostro permanente così e sopra ci metto la polverina trasparente trasparente ah che non avevo pensato che ovviamente adesso si attaccherà anche dove non deve ma non importa farà l'effetto acqua io adesso prendo il cuscinetto antistatico per l'altra parte e lo neutralizzo così prendo il cuscinetto antistatico e chiaramente se lo trovo però ero certa di averlo collocato in un posto ben preciso nei miei contenitori dovrebbe essere in questo cestino qua perché con praticamente il nostro cuscinetto antistatico va a neutralizzare tutte le tracce di umidità ma anche di colla se dovessero esserci qui non ce ne sono che ci sono sulla carta evitando che la nostra polvere da embossing vada a posizionarsi dove non dovrebbe la polvere da embossing eccolo qua la polvere da embossing guardate semplicemente così la polvere da embossing è quella che ci permette poi di avere l'effetto bianco che abbiamo fatto prima mettiamo via un secondo questo e facciamo la seconda parte dall'altro lato lo embossiamo con la polverina bianca usiamo lo stesso ink vale a dire lo stesso colore lo stesso tampone colorato che adesso è pieno di polverina lo facciamo da questo lato così speriamo di non aver spostato il timbro ok adesso ci mettiamo la polverina trasparente no la polverina bianca scusate perché vi ho messo quella trasparente sono stata troppo troppo rapida e non si è attaccata mannaggia niente è ad asciugatura molto rapida eppure lì l'ha preso aspettate perché voglio farvi vedere la differenza iniziamo ad asciugare questi che così vi do un'idea durerà due ore può essere però io con l'uomo lo posso sentire parlare cioè mi può parlare tutto il tempo che vuole potrebbe vendermi qualsiasi cosa allora qui dove sto asciugando adesso è la polverina trasparente in realtà vedo che si asciuga veramente tanto in fretta quindi ne è rimasta poca adesso ve lo faccio vedere con un altro ink qui c'è quella bianca ma ne è rimasta pochissima perché si asciugano molto in fretta una caratteristica degli ink permanenti solitamente è quella di asciugarsi veramente molto in fretta sono pochi quelli che ci permettono di imbossare se avessi avuto la platform quindi con un timbro clear avrei potuto avrei potuto provare a timbrare due volte di modo da lasciare più un chiostro e quindi da avere la possibilità di fare la timbrata allora per imbossare secondo me il pad della Nuvo è fantastico quindi vi consiglierei quello allora questa parte qua non mi è piaciuta molto noi ci faremo una mini card quindi per fare quello che volevo farvi vedere con la parte con il bianco prendiamo questo risfumiamo potremmo farlo anche su un cartoncino già colorato potremmo anche prendere un pezzo di craft magari un pezzetto qua guardiamo tra i ritagli che cosa c'è ma guardate abbiamo un pezzo della mia carta la numero due di quelle ho praticamente ho cercato di imbossare con questo ink permanente di Florilege i Floricolor però si asciuga molto molto rapidamente questo non ci consente non dà il tempo alla polverina di attaccarsi bene quindi siccome volevo farvi vedere l'effetto di una imbossatura bianca su una superficie più scura adesso sto tagliando un pezzo da questa che è la carta numero due delle mie carte baby appena uscite allora questo lo chiudiamo prima di fare pasticci prendiamo il nostro timbro usiamo a questo punto il tampone di inchiostro trasparente quello fatto apposta per imbossare quello della Nuvo va bene anche il Versamark va bene anche quello della Wow così allora la mia carta è un po' ha una texture molto forte ma secondo me riusciamo lo stesso proviamo premiamo bene e ci mettiamo sopra subito la polverina bianca non importa se il timbro è macchiato perché in realtà la polverina bianca coprirà tutto vedete qui l'ha presa perfettamente quelli permanenti quindi i floricolor sono ad asciugatura molto molto veloce quindi in realtà se non avete una platform con cui mettere più volte l'inchiostro la polverina abbiamo visto che non si attacca asciughiamo forse ne ho scelto una troppo chiara vero? vabbè adesso poi faccio un'altra cosa quando cambia colore e diventa lucida ci si sposta la plastica di cui è composta questa polverina da embossing si fonde e crea questo disegno in rilievo è anche fantastica per contenere parti acquerellate guardate che meraviglia uno ha una sola velocità e uno ne ha due di velocità allora siccome questa qui dalla parte dove volevo fare il bianco non è venuto bene io la taglio facciamo una card praticamente quadrata con il nostro timbro facciamo una una timbrata lì o qua un pezzettino giusto ma potrebbe essere questo pezzo qua in realtà no lui per forza così premiamo bene e poi andiamo di bianco vedete? così vi faccio vedere l'effetto che fa su qualcosa di particolarmente scuro questo qui è della judy judy kings ma vanno benissimo quelle della nuvo quelle della ranger sono perfette quella trasparente che ho usato è della nuvo guardate l'effetto pazzesco un attimo perfetto allora questo qui non è venuto tanto bene quindi mi sento libera di buttarlo abbiamo questo qui quello lì e abbiamo questo pannello qui e ne abbiamo anche un altro dove l'abbiamo messo qua esistono quelli a due velocità che sono tanto comodi per certi versi allora proviamo adesso uno dei tanti modi secondo me di farsi una carta adesso Tommaso stasera nella live ve ne fa vedere diversi e io lo faccio spesso con i fiori è anche bello usare questi colori così chiari per creare degli effetti tipo texture per esempio con i timbri della con gli inchiostri scusatemi della Taylor l'avevamo fatto su tono su tono e l'effetto è meraviglioso proviamo questo questo è ad acqua noi ci imbibiamo bene il nostro timbro non avendo una platform in realtà il rischio di non timbrare bene è alto ma vabbè se non viene bene mi vorrete bene lo stesso avevo una cosa sporco vabbè pazienza però guardate adesso lui si deposita e diventerà un pochino più chiaro quando sarà ben assestato vedete io adesso potrei inchiostrare solo questa parte qui e fare una timbrata così anche questo pezzettino qui vado ad occhio quindi in realtà potrei anche rovinarlo è andata di puro 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 fondo schiena se avete dei timbri più piccoli è più facile se avete dei timbri clear è molto più semplice ok voilà e questo è un altro modo anche questo in realtà è un modo molto carino qui possiamo metterci una fascetta metterci dietro una carta un pochino più scura e l'effetto è molto bello che esce venerdì anche in modo scrap è un periodo coincitato bisogna tenersi impegnati adesso che poi siete tornati tutti al lavoro siamo tornati tutto al lavoro io non mi sono ancora mai allontanata vi servono distrazioni no? è venuto sfumato anche se non era voluto perché il timbro era ancora umido e quindi si è tenuto un po' del colore scuro che c'era sotto però guardate che definizione pazzesca se qui adesso noi ne facessimo da questo lato un pezzetto di timbrata chiara vanno in sottovuoto questi tamponi volevo dirvi guardate lo facciamo così qua è delizioso vedete? splendido almeno a me piace molto questo effetto qui quindi abbiamo ricapitolando utilizzabili per delle card questi questo qui possiamo provare a fare uno sfondo tutto 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 giallo e poi a timbrarci sopra possiamo provare ad acquerellarlo nel senso che nel senso che si possono fare le goccioline d'acqua ci sono tutta una serie di ma questo non credo che si possa spatasciare fatemi fare una prova prendiamo uno scarto ma why not vedete? crea questo effetto macchia questo è molto chiaro però credo che userò il 4x4 se riesco ad averne a sufficienza per il progetto di natale ad agosto vedete quanto è delicata è bellissima proviamo a fare uno sfondo tutto così non ci provo neanche con quello con quello scuro perché è permanente quindi in realtà nel momento in cui gli mettiamo l'acqua lui si ritrae adesso prendiamo un pannello e semplicemente raccogliamo le macchie non guardo neanche così lo asciugo non lo faccio il periodine per moda scrap perché in realtà escono venerdì e lunedì le avrò quindi in realtà le facciamo appena arrivano ve le metto in ordine e siamo a posto guardate che meraviglia in un attimo e se adesso noi possiamo fare diverse cose con questo sfondo lo useremo come base di una card possiamo prendere il nostro timbo e timbrare tono su tono un pezzetto quindi in realtà riprendiamo lo stesso colore e facciamo questo perché comunque l'intensità di colore sarà diversa vedete è meraviglioso e da questo lato potremmo farne invece un pezzetto di timbrata con il colore più scuro e in un attimo abbiamo creato un pannello finito dove ci manca solo il sentiment fogli singoli fogli singoli per noi saranno da acquistare in pacchetti da 20 come tutte le collezioni insomma non è che compriamo i fogli singoli guardate è splendido io trovo però voi potrete comprare il foglio singolo quindi in realtà non è una grossa release state tranquilli non attenteranno troppo ai nostri portafogli scusatemi nessun colore noi i colori si tengono tutti assolutamente allora adesso in realtà non ci resta che declinare queste e montarle decidiamo per un sentiment in realtà credo che userò potremmo usare anche lo stesso sentiment un pochino ovunque per vedere come cambia ho qui i miei timbri usiamo quelli di aprile anche se c'è scritto marzo sono quelli di aprile ve lo giuro allora per questi magari però la prappa non possiamo usare diciamo che quello di oggi non è un vero progetto ma qualcuno mi aveva chiesto di far vedere come l'embossatura per persone che si avvicinano allo scrap è sempre una meraviglia l'embossatura quindi montiamo queste card velocemente adesso scegliamo dei pannelli potrebbero essere in realtà anche tutti dei grigi andrebbero benissimo allora tu che sei piccinino ci mettiamo questo guarda è una delle prime cose che ho visto che ho visto fare e me ne sono innamorata subito allora qui io timbrerei usando lo scuro il brude noir si parte domani abbiamo messo tutto in spedizione i pacchi partono i pacchi che aspettavano solo i bundle di Tommaso partono domani invece che aspettava ancora i kit c'è ancora uno o due giorni da aspettare ma domani mi porteranno mi porteranno le carte quindi sono fiduciosa ok perfetto una l'ho rimbrata un po' troppo in là ma va bene lo stesso su di te ti metterei ti metterei qui che così copro ok perfetto qui sopra diciamo che il verso della card sarà sempre questo e il timbro lo mettiamo qua in realtà potremmo mettere un bel marrone scuro un bel marrone scuro come base e va bene per tutte secondo me ok poi abbiamo ancora te che ti terrai così questo qua sono semplici sono solo per farvi vedere sono solo per farvi vedere l'effetto delle imbossature di questi ink ne ho aperti solo due perché non ne ho trovati tantissimi disponibili quindi non volevo appropriarmi indebitamente ah questo l'ho sporcato vabbè adesso vediamo se riusciamo a porre rimedio mascherando ecco l'unica cosa è che si attaccano tutte le calamite a questi attacca quella leggenda quale non ho capito che dovevo essermi persa un commento prima ok allora puliamo il timbro va bene solo la salvietta con questi vedete per esempio il timbro un silicone rimane marrone ma non succede niente una volta che io l'ho pulito questo non sporcherà adesso è asciutto quindi probabilmente se provo a timbrare sporca ma una volta che sarà asciutto il fatto che il timbro sia rimasto marrone non ne va a inficiare la la timbrata così questo lo mettiamo via allora sono molto sì in realtà sono state fatte solo per farvi vedere un po' l'uso dei colori e l'imbossatura quindi non è che ci sia proprio chissà quale idea dietro queste card però a volte basta proprio poco a volte basta niente adesso ci mettiamo dietro un pannello scuro qui possiamo mettere un pannello bianco qui ci possiamo mettere un bel marrone praticamente su tutte secondo me vado a prendere il moka aspetta un attimo è bello quando vai diretta verso un posto ma madre ha spostato l'espositore dei tailored il timbro del legno delle cornici speriamo ne ho messi un top nel carrello speriamo di essere di essere riuscite ad accaparrarceli allora 4 pollici per in realtà per 6 prendendo questa carta ho un po' sbagliato la misura ma ormai guardate come prende vita quando dietro gli mettiamo uno sfondo più scuro per te che invece sei nato un po' così facciamo un 10 per 10 10 per 10 perfetto non è male neanche nero ma secondo me se gli facessi una doppia ma c'è neanche scuro questo è il mo questo è il chocolate truffle però guardate oppure il contrario si potrebbe anche pensare di fare il colmo potremmo fare il contrario fatemi vedere guardate che bello così è la morte sua quindi tagliamo via mezzo centimetro quindi facciamo due millimetri di qua e due millimetri di qua due millimetri di qua tutto intorno sto ritagliando per dargli una misura che mi consenta di fare la doppia mattatura adesso che ho già tagliato il marrone ok tagliamo un nove e mezzo per nove e mezzo questa è la mia carta direi che sì perfetto lo slursiamo qui un secondo poi li attacchiamo tutti insieme prima prepariamo tutte le mattature abbiamo ancora tre quindi quattro pollici per sei e saresti tu così poi un altro altri due ne devo tagliare vediamo questo se farlo col marrone o con il bianco o con tutti due vediamo quattro per sei quando mettiamo sotto una base a contrasto la card prende prende praticamente vita non c'è niente da fare è incredibile come tutte le volte cambi proprio faccia quattro per sei ciao Sara allora vediamo se tu devi essere marrone o magari con un inserto bianco sotto sì ci piace oppure marrone e poi il bianco ah sì è la morte sua quindi questo sarà quattro pollici e un quarto per sei pollici e un quarto facciamo il contrario rispetto a quello che abbiamo fatto con l'altra card in realtà sono card semplicissime fatte solo per farvi vedere come si possono usare questi elementi questo scarto non lo buttiamo le striscioline sì forse Patrizia non c'è oggi quindi non mi sta sgridando mettiamo via questi facciamo finta di fare ordine poi facciamo la paginetta ok allora abbiamo detto prima questo però magari devo tagliarlo scusate sono veramente brasata sì sì allora quattro per sei allora le incolliamo così adesso incolliamo andiamo di colla così e poi qui questo lavoro se l'ho fatto con il biadesivo viene un po' più preciso io per una questione di tempi l'ho fatta anche fino a un po' troppo alta la rifinerai un secondo un paio di millimetri assolutamente ad occhio ad occhio ci piace come metodologia qui ancora un po' di millimetrino ok così la trovo finissima lascio gli la taglierina che magari mi è venuta un'idea per un decoro semplice semplice anche questo lo incolliamo l'avevo già tagliata e l'ho messa via brava eh vabbè quando dico che sono stanche non so neanche più come mi chiamo intendo esattamente questo ok è rimasta questa ok incolliamo l'oro in realtà potremmo adesso fare anche delle macchioline con link di Tommaso se ci andasse potremmo aggiungere delle paillettes potremmo aggiungere dei bannerini così guardate per esempio cosa succede se qui era quello che pensavo prima adesso ne tagliamo una striscetta da tre quarti di pollice e la facciamo diventare un bannerino in questo senso ah non così che è venuta una schifezza ma guardate ne tagliamo un pezzetto così abbiamo una base da taglio più semplice per me almeno che sono impedita guardate come lo cambia lì ci possiamo mettere un brillocco ci possiamo mettere una una paillette vediamo che cos'ho io qui ready to go che ce l'ho in un altro contenitore perché ho distribuito gli abbellimenti quindi sono tutti in un po' qua guardate ho di questi cuoricini che sono avanzati ed è la morte sua perché è esattamente quel colore lì così oppure possiamo prendere un punch tondo per esempio questo è quello da un pollice possiamo pinciare semplicemente un tondino possiamo usarlo come impugnatura possiamo tagliarlo a metà io adesso ne taglio un pezzetto non mi sono neanche preoccupata del fatto che fosse effettivamente metà perché lo metterò qui un pezzo qui e un pezzo qui sopra e guardate come definisce la card no? in un attimo con pochissimo non ci ho pensato avrei potuto fare i corner del col punch ticket su queste su queste basi sarebbe stato carinissimo qui possiamo fare per esempio un bannerino lungo potrebbe essere una cosa così ne tagliamo una striscetta questo è fin troppo lungo rifiniamo qua ho tagliato tutto storto e potrebbe essere messo qui con una timbrata o con degli abbellimenti si potrebbe spessorare io adesso lo metto così com'è e ci potremmo mettere sopra un pezzettino di washi potremmo scriverci qualcosa potremmo scriverci anche solo un tu ma fermati solo quando arriverà le stelle un sempre ce la facciamo scrivere un sempre forse non ci stiamo come spazi proviamo questo è sempre quell'alfabeto di cui ho gli avanzi qui e che continuo ad usare perché è qui non l'ho buttato sempre magari non lo addrizziamo un briciolo no guardare dal telefono con questo timbro bene non sono contenta perché li usate anche tanto il di fuori del progetto del My Twelfthase che era proprio un po' l'idea di creare dei set un po' versatili per esempio e qui sopra se potete guardate c'è questo qui che è avanzato che se ritaglio un pochino meglio può essere un bannerino che scende e su cui mettere magari l'appiccichino del momento potrebbe essere un altro cuoricino potrebbe essere un dot di nuovo mettiamoci no questo è troppo grande dove l'ho lasciato? è qua per esempio su questo potremmo fare una punciata rotonda e mettere i due tondini che secondo me ci sta molto bene potremmo usare anche il punch più piccolo guardate potremmo fare una punciata così che mettiamo come se fosse una decorazione se adesso avessi tutte le misure dei punch farei diverse e punciate adesso proviamo uno lo mettiamo qua sembra il titolo di un film cosa? tagliamo via un pezzettino del cerchio non a metà ma molto sotto e lo appiccico qua così sembra che stia scappando dal foglio no? guardate come cambia tantissimo con pochissimi dettagli e qui in realtà metterei anche solo un cuoricino ed è perfetto ed è finito e abbiamo fatto allora la resa di timbrata come nitidezza è perfetta sia sui colori chiari che sui colori scuri tenete solo presente che gli acqua color sono a base d'acqua e quindi potete giocare anche con le goccioline potete sfumare meglio ma si sfuma anche con l'altro i permanenti sono ad asciugatura estremamente rapida e quindi in realtà non si riesce ad imbossare salvo che bisognerebbe provare oggi avevo un timbro in legno e non si prestava a fare questo tipo di prova secondo me con la con lo stamping tool timbrando più volte consecutivamente una sopra l'altra si riesce a mettere abbastanza in chiostro che quindi ci mette più tempo ad asciugare di modo che la polverina si depositi bene queste sono le card facciamo un secondo la paginetta che tanto è un attimo qua avevo la foto qui mettiamo questa e l'altra la teniamo lì magari domani riesco a fare il layout che avevo in mente allora questa va accorciata possiamo anche rifilare un pezzettino qui questa l'ho fatta stamattina nel negozio prima di iniziare a fare gli ordini adesso ho un'altra faccia incolliamo il timbro del sentiment di queste qua Elisa è il mio set dei My 12 Tastes di aprile questo lo mettiamo qui e vediamo se negli appiccichini ho qualcosa che possa andare bene questi sono anemoni i fiori che mi piacciono sempre tantissimo abbiamo questa a me piace tantissimo questa anche Heart and Soul che da sola fa praticamente tutto non devo fare altro e vediamo se ho qualcosa che mi può piacere il caffè le scritte dorate vediamo qui se ho qualche frasetta today is narrow take your time perfetto e la paginetta è fatta scriviamo la data adesso per domani dovrò poi farla ma ci penserò allora oggi è il 20 almeno con la data almeno con la data ci ho preso allora disponiamo tutto qui ok così ve le faccio vedere e queste sono delle semplicissime card in realtà fatte con nulla con un timbro due inchiostri un po' di carta e delle polverine da embossing direi che sono molto carine in specie quando le finiamo con la base sotto prendono proprio vita secondo me lo dico sempre e questo l'ho fatto perché qualcuno mi aveva appunto chiesto di vedere la tecnica dell'embossing si possono fare mille cose con l'embossing se volete poi vi cerco il video che avevo fatto qualche anno fa ormai per fare un po' di prove con quello che era l'embossing avevo usato se non sbaglio la peonia di Altenew avevamo fatto una demo sia in negozio che poi live troppo bianco a sinistra in realtà mi piace proprio così che sia solo il lato e a gusti cioè non ci sono regole per fortuna da questo in questo quindi quello che ti piace è sempre giusto sempre allora direi che per stasera è tutto abbiamo smistato i banner di Tommaso i bundle tutto in ordine ci sono i timbri ci sono gli stensi ci sono i quaderni ci sono ancora un paio di bundle li trovate tra le novità sul sito domani arriveranno un po' di cose di ID Swap quindi una volta smistato quello vediamo cosa riesco a fare nel live speriamo che ci sia che ci sia tempo ma spero di sì insomma non dovrebbero essere troppissime cose e nulla ci riviamo domani con un'altra paginetta e un altro progetto credo che farò un layout vediamo si può anche dare fuoco con l'emboss si è una funzione che tendenzialmente sconsiglio salvo che non abbiate in casa un pompiere quando inizi a fare fumo è il momento di smettere questo l'abbiamo imparato in un live disastroso di qualche tempo fa quando avete un bicchiere con dell'acqua tenetelo lontano se siete maldestri come me quando state imbossando state asciugando e vedete il fumo è ora di smettere quando è finito quando c'è il fumo prima del fumo se possibile sapete come quando dicono smettiamo di mangiare quando abbiamo ancora un briciolo di fame ecco smettiamo di imbossare quando ancora non sta fumando per dire la demo del foil stiamo organizzando un po' di cose con Tommaso adesso vediamo oggi in realtà è saltata fuori questa esigenza del fare anche una demo con i colori country vediamo vi tengo aggiornate in realtà abbiamo pubblicato poi dei nuovi corsi con Tommaso ve li avevo listati ma se andate nella pagina dei corsi del sito trovate i corsi che sta facendo lui per la cameo tra l'altro sono tutte entusiaste se non sbaglio le persone che lo stanno frequentando perché lui è un ottimo insegnante conosce molto bene la cameo io prima o poi lo rapirò due giorni per farmi dare due dritte perché la mia è ancora nella scatola e lo dico con tantissima vergogna però hai preso fuoco ai capelli no ma mi consola perché tu quando è che do fuoco a delle tag possibilmente durante un live dove ci sono un sacco di persone che mi guardano bravissima allora fanciulle per stasera è tutto vado a farmi una doccia e vado a riposarmi buonasera ciao 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 grazie a tutti